Finalmente ragazzi possiamo dirvelo! È arrivato il nostro nuovo libro, il Luna Park Stregato! Sapete che adoriamo Halloween, no? E quindi non potevamo che fare un libro tutto nostro! Il libro più brividoso di sempre! Cosa aspetti? Acquista la tua copia, l'anteprima nazionale al nostro evento alla Mondadori che si trova all'interno del centro commerciale! Vi aspettiamo, non vediamo l'ora di abbracciarvi tutti! Ludo! Ludo Vika! Ludo! Ludo siamo a Gardaland! Sì, dobbiamo andare a fare colazione e poi dobbiamo andare sulle giostre! Dai! Dovemo andare al parco, al parco di Gardaland! Anzù! Aurora! Auri! Ma insomma vi svegliate? Auri! Auri! Ludo ma sei sveglia tu Amori ti sei svegliata Sì Ah buongiorno eh Ci siamo svegliati Mamma mia quell'occhio dentro Mamma mia quell'occhio dentro Quanto è brutto Ma ci siamo svegliati signorina Dai su Dobbiamo andare a fare colazione Lo sai che ci sono qui I pancake, quelli che piacciono a te Con la cioccolata Ti piacciono? Sveglia Uri E' un adormiglione Non si vuole mai alzare Anche io provavo un po' meglio Eh me ne sono accorta guarda Sveglia Su signorine Amore mio bello Matatina cuccioloccia Ma che rimane fredde Ticcola piccola Ma che non è freddo Hai freddo amore Patatosa Lo sai che sei patatosa tu? Lo sai che sei una patatona patatosa? Eh Dai dai Andiamo a fare una bella colazione Mi ho prenduto il cappuccino Ho una voglia di cappuccino Ti mi ha la mano di pane Hai ragione Hai ragione Ah buongiorno Lulù Siamo pronte finalmente Mamma Io ieri notte ho avuto la tosse Tu raffreddore E io freddo Sì stiamo rovinate proprio Ah è vero Il ghiaccio Che ci ha fatto raffreddare Auri Ci muoviamo Allora Dai fai presto Ricordate qui che c'ho I delfini I nostri amati delfini Di oltremare Oh che carini Senti ma sei pronta Per fare la colazione Ho una fame Che non ci vedo più Vediamo Leo Vediamo Leo E stasera andiamo a prendere Il nostro Leuccio Il nostro amato Leuccio Sei felice che andiamo a prendere Leo? Che è a casa di un nostro amico? Perché non è che lo potevamo lasciare Da solo a casa eh 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 Io facevo la pipì a casa La cacca a casa Io non la voglio raccogliere Madonna mi mancherà tantissimo Questo unicorno Quanto è bello Ludo Sembra che tipo Sta avvenendo da Ce lo portiamo a casa Come facciamo? Ce lo dobbiamo far fare Uno a casa nostra Uguale Ce lo facciamo fare No Mamma Lo disegni tu? Mamma Vieni Questo Questo Sì anche questo Mi piace Bellissimo Questo hai ragione Prima Questo abbraccione Ma cosa fai? Questo si mette di scatto Così Pah Vai Hai visto? Lo sai che questi c'erano Anche quando io ero piccola? Lo sai? Che carino Prezzo è maleta Ludo Iniziamo a scendere Dai dai Andiamo a fare colazione Un po' più spesante Un po' più spesante Ricordate le mie sterpe uose? Che bello Andiamo Andiamo Stai ferma No Stai ferma Vai 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 Dove si va? C'è fuoco ragazzi C'è fuoco C'è fuoco E abbiamo l'alto di te Aurora Ma ti muovi Andiamo Povero unicorno Andiamo Su che facciamo tardi Ma non avevo visto che c'è Un unicorno Che bello Andiamo Hai visto la scheda? Sì L'ha presa Dai dai Presti Dai amici Di là Di qua Corri 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 Dai dai Io voglio sapere Che non chiedo Che non chiedo Ma è quest'ora Quando vai a scuola Io voglio più presto Ma come ragazzi Voglio un cappuccino Un cornetto Una brioche Un pochettetto Io voglio un tutto Io voglio un plum cake Papà secondo me Mangia qualcosa di salato Sì Come l'anno scorso Prego prego Grazie Un piatto E' figlio Cosa prendiamo? Allora Questo non ho Perché ragazzi Sono al tuo Eh lo sapevo Che Ludo andava su qua In cake Io non lo so Lo sapevo Non avevo dubbi Allora quello Allora io ne ho questo Bravo Lulù Eh eh Con calma Ludo vinti Ah lo vinti Te lo prendo io Vinti vinta Ma non mi sape La facciamo Ludo Vinti lo piano piano Ado te lo prendo io Otto Grazie Ma faccia praticamente La torre di due Ho scelto Tutto Tutto Questo lo prendo pure io Guardate qui cosa c'è C'è anche del salato Ma prima mattina anche no direi Ludo qui è inutile che va Andiamo a vedere di là Il vius è la prima mattina Ludo 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 mi si può mettere un po' di tutto Ludo Ludo il vius è la prima mattina Va bene andiamo a vedere di là No no non prendere l'uovo che non lo mangi Andiamo a vedere di là cosa c'è Il vius è con il salato Ok se me lo venga qua Un po' di Questi sono dei semi Voglio poi Volete cereali? Oh ma la mia Ma cosa combinate? Scusate Adesso ragazzi Il latte Dove è il latte? Andiamo a prendere il latte Ludo ce la fai Ma ma ragazzi La situa è tragica Ha preso il gusto Io vado un attimo A mettere qui la tavola Ludo guarda per il simbolo Come guarda il tuo gusto Fammi vedere cosa hai preso Allora hai preso Ma quante cose hai preso? Mamma vogliamo mettere La ciotola che si pensa Anche No Ludo mi capi Vai Thank you È un po' dura No Faccio io Ludo mi capi No lasciala fare Mamma ma tu hai capito che lei Ludo vai È un po' duro? È duro Vuoi che schiacciate? Schiacciate Schiacciate Oh no 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 va Così io faccio ginnastica Basta basta Quanta Nutella Ludo Adesso tocca Prendere il latte Com'è questo latte? Mi sento Come questo pezzo di mius Che secondo me Vuole prezzemolo ragazzi Guardatelo Guardatelo ragazzi No 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 Mi sono lavate Ma secondo Ecco ragazzi Il danno che fa la vita Ogni volta con il latte Asciugati Asciugati con un fazzolettino Ludo Allora ragazzi Intanto io inizio a mangiare Il mio frunche Il mio frunche Pancake Volevo dire Il mio frunche E buon appetito Aiuto Una delizia Com'è Ludo? È buono Luli? Ed ecco qui I cappuccini E voilà Grazie Com'è quindi questa colazione? Buona Allora Siete pronte Per lasciare la camera? Sì E per andare a Gardaland Al parco? No ragazzi Non ricorda Mi mancherà un sacco Addio Addio Ok lo dico Dai Ludo ce la possiamo fare Aspetta Devo vedere che sto E tipo siamo Non lo costruiamo Che dettaglio Vuoi vedere? Ragazzi ma lei Ancora la corona In testa Ok Ok L'hai visto bene? Lo costruiamo Anche questa porta Aspetta Ok Ok Arrivederci Piccolo scherzetto Del giorno No Sì 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 Mi dispiace davvero Mamma mia Aspetta Andiamo Mamma Papà non ci vuoi In parte Ok Allora Destra Sinistra Destra Lui cadesti Mamma mia ragazzi O sinistra Dove dobbiamo andare Papà Dove si va? Papà Dove va la pazienza? Non si fa Che state facendo? Cioè ma io non lo so Ragazzi Ma che avete bussato? Ma siete impazzite? No ma Siete pazze? No ma Ragazzi Lo spirito di Gardaland Le sue canzoni Cioè Io non so perché Ma Quando sto a Gardaland Mi sento bene Perché tutte queste canzoni Sì Intanto metti il giacchetto Che fa freddo Benvenuti Amici ospiti Ricordate questi parole Magic Element Magic Element Magic Element Magic Element Fuoco Fuoco Mario Terra Acqua Si Buongiorno Prima attrezione di oggi ragazzi Adesso Saluto Mamma Ok, andiamo Ragazzi, quello è stato un po' tragico È venuto? Non c'è questa attrazione Devo toccare qualcosa Ragazzi, la mattina va sempre un po' freschetto, devo dire Eh sì Salutate Gardaland ragazze L'albergo Ci vediamo l'anno prossimo Ragazzi, ho messo il mio giuppino Perché ci rivediamo l'anno prossimo Cioè, non ho freddo Ragazzi, ho utilizzato il mio giuppino come copertina suot Che ha freddo Non ho freddo Cioè, che ha messo? Ha la gonnellina Qua fa un po' freschetto Quindi questo mi piace un blusso Cos'è calma? Non c'è il bambano Non c'è l'isceso Non c'è l'isceso Ecco, vediamo quelli di cadere, sì I bagagli ci sono tutti Ragazzi, adesso c'è il sole e fa molto più caldo Ludo Ma tutto vero? Ci sei Ludo Ragazzi, le foto non le posso guardare Io a Massimo non sto ventapasto Io non le posso guardare Vai Non mi faccio vedere Brava Ludo, ok Ok ragazzi, io direi di andare al parco Inizia la nostra giornatina di giostre Ma ci sarà una sorpresa Che vi dirò e vi annuncerò lì Una sorpresa Ma non so se vi piacerà Dai, dai Intanto andiamo Eccoci arrivati Eccoci qui giunti a Cardala Siamo arrivati Sì, siamo appena arrivati Ludo Allora, sei emozionata di entrare? Perché siamo arrivati? Siete pronte per andare sulle giostre più pericolose del mondo? Ragazzi, io faccio fare il mammut Lo c'è, no Il mammut Perché non vengono Posso fare le giostre di Aurora Yeah Allora ragazzi Per prima cosa faremo le giostre d'acqua? Perché fa molto caldo Se le facciamo di sera Probabilmente ci verrà una bella pronto polmonite Prima facciamo il bugone di ragni Perché ci sono da discesa con la barca Che mamma sicuramente non vorrà fare Ma ovvio Doveva farlo per forza E si spenderà a vedere tutto Allora andiamo sì o no, chiacchierona Andiamo Ludo Vediamo quali giostre puoi fare in base alla tua altezza Ok Cosa fa lo sciamano? Vediamo, vediamo Non puoi fare lo sciamano veramente? No, ma non scherzare E io invece Ludo Tu lo sciamano non lo fai Vabbè, tu le puoi fare tutte Tu però anche il cattellone No dai, io lo posso fare Non è tornato? Non è tornato? Io voglio fare lo stesso versicolo Vabbè, intanto andiamo a fare qualcosa, dai Venite Allora ragazzi Stiamo per andare sulla prima giostra Anche se Sei paurosa, te lo dico già Auri, io non vengo Non ci andate voi Ragazzi, io voglio fare l'oblivion Ecco Inizia ad andare Eccolo lì Mamma mia, quanto è bello Vai, vai Inizia ad andare da Rauri Ok, io Lo sciamano Dai mamma Tu sei una piccola giostrina, dai No Andiamo a mangiare Prima di fare l'attrazione ragazzi Perché ho lo stomaco vuoto Quindi riempiamolo E poi andiamo a giocare A fare l'attrazione Eccoci qui arrivati al ristorante Ricorsaro Leo Ma wow Che bello questo ristorante Hai capito? Guarda qui Cosa c'è qui? La nave dei corsari Stai facendo un tuffo mamma Ma che tuffo? Guarda quanto è bello Questa barco Aspetta ragazzi Andiamo Vini Guarda Lili Lì cosa c'è? Chissà come si va lì Vabbè dai Andiamo a trovare il nostro tavolo Eccoci qui E' arrivato il nostro pranzo Aurito cosa hai preso? No ma è un po' grande No che dici no? Ma la diavola Non avevi preso la marinara? Eh appunto Non lo so Questa è la mia margherita Questa è la pizza di papi E lui invece ha preso i nuggets Con le patatine Sì ma ma io volevo la marinara Non la diavola Infatti era la marinara la tua tazza Cos'è successo? Papi Sì Vabbè dai vuol dire che Che ci dovevi mangiare questa Aurin però devo dire che ha una bella faccia questa cosa È leggermente grande ragazzi Cioè le posti di sapere Eppure il piatto sotto Che bello che è questo pezzettino di legno Sì Ciao i nuggets Guarda mamma Ciao aurora Eh bastava chiederla eh Insomma me l'ha messa dove c'è Guarda mamma 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 Facciamo una bella patita Cari ma che stai combinando Ma che bomba è Molto buono vuoi provare? Sì voglio provare Ecco Dov'è la mia coca? Ma ragazzi voi non fatelo a casa mi raccomando perché Non è per niente buono Dov'è vomitate Nuggets e patatina e ketchup E anche patatina e ketchup Buono Quindi com'è questa pizza Aurin? Un sbagliato pizza però Ma possibile che noi stiamo sempre a mangiare? Cosa stai vedendo Ludo? Cosa guardi? Leo? Stai guardando Leo? Che appasseggia con il nostro amico? No no è il passeggio con la tua amica Fammi vedere Leo dov'è? Non lo vedo È con la tua amichetta Adesso si va sul E allora che aspettate? Andate Perché io non ci vengo Vieni con Norma Andiamo nella tanta fila Io sto qua Non vuoi Ragazzi aiuto Ma mi raccomando Attenzione con cellula Si vola Si vola Oh nooo Ragazzi mi non la tappo 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 ci sentiamo male vero lu lu panico auri auri quanto erano belle quelli di tornini ma quanti di tornini che ci sono qui a gardala ma non mi hai detto come è stato il mammut come è stato no ragazzi Ludovica si sta facendo grandi ha compiuto 7 anni quindi allora è voluto andare su il mammut aurora non mi ha mantenuto no mamma non ti ha mantenuto io stavo cadendo ogni 3 secondi mi diceva mi sto friggendo a me ma più di così cosa devo fa amore ma hai avuto paura la prima era stata bomba l'ultima era stata verificante la seconda è stata così ma ti sei divertita Ludovica anche sul mammut ti sei andata e adesso andiamo da fucato ai treni di ghi e anche questa è la mia prima battaglia anche lì vuoi andare ma non è che perché hai compiuto 7 anni puoi andare su tutte le ciostre pericolose eh cioè io non lo so ragazzi ecco vi ricordate che io vedevo papà e allora da quel balcone e adesso lo faccio io e te vieni con noi no no io ho paura non ci voglio venire io vi riprendo da giù basta che chiudi gli occhi così no no non ci penso proprio ecco qua mamma mia fanno paura questi qui eh ve lo dico le unicornine qui aumentano ciao ciao allora ragazzi io intanto li prendo da qui perché ho paura di andare sulle giostre qui su questa giostra fu data tantide e la discesa è altissima quindi io non ho nessuna intenzione di andarci che è successo ma sei ancora qui tu gli abbonamenti ci vediamo ma io non lo so anche gli abbonamenti vi siete dimenticati dai presto io vi riprendo da qui eh stavo dicendo io riprendo da qui perché ho paura guardate qui quanto è bello si eccoli lì la prima fila io non ci s'ero mai stata la mia fila io non ci sarò mai stata la mia fila io non ci sarò mai stata una cosa stava piano 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 ma vieni 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Ciao! Ci siamo bagnate tutte! Oh mamma! Oh mamma! Oh mamma! Oh mamma! Oh mamma! No mamma! Non si esce da qui! Non si esce da qui! Mamma guarda! Mamma guarda! Oh mamma guarda! Guardate il bagno! Guardate il bagno! Guardate il bagno! L'avete combinato! Ragazzi! Quando c'è la discesa lunga! Noi non ci veniamo mai! Ragazzi! Prima fila! Siamo tutte frasi! Eh! Me ne sono accorta eh! Adesso sapete dove andiamo? Rappto! Sui gommoni! Andiamo! Le ciambelline! Ah ragazzi! I gommoni! Così ti fate un altro po' di bagno! Sì dai! Però quello non ti bagna molto! No mamma è stato bellissimo ragazzi! Io volevo fare prima fila ma io vi giuro! Ragazza una bella foto e poi andiamo! Posso! Ok! Vai Ludo! Ludo quindi ti sei bagnata tutta? Ragazza guarda! Eh! Ce ne siamo accorti guarda! Mi hanno bagnato loro! Non è che è stata la discesa! Se vuoi fare un tico tocco che sei bella fashion! Non basta fare così! Ciao! 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 Ed è fatto! Ecco come devi fare adesso te lo faccio! Ludo! Oh Ludo cosa c'è lì sopra? Fregata! Ludo devi salire subito sulla ciambellona perché vedi lì? No mamma io cado! Gira! No mamma io cado basta! Hai visto lì? Gira! Quindi devi fare un salto sul gommone! Anche voi eh! Questa è l'impresa più difficile del mondo! Ma vai 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 muoviti! No no no! Quanto tre vuoi? Mamma mia mamma mia mamma mia! Non mi fare il bagno eh! Ma io sono la parte che c'è quella... Aiuto! Ragazzi ma da quanto tempo non andava a p dafür cioè feee! Stai arrivando! Mag intermedi, sai nudo? Mettiti il giacchettino! Ma ton酒 ho fatto un piccolo provipasico! Mettiti anche il cappuccio! ragazzi 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 ma vi ricordate quando eravamo venute qua con Gaia? eravamo proprio piccolamente è vero lui non c'era si vola è stata la mia prima volta dove siamo? no ma non si vede niente no mamma no mamma si manchiamo ragazzi ma cos'è tutto questo buio? attenzione no no grazie allora lasciateci non mangiarsi ragazzi li attenzione dai vai C'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è? Lula! Lula! Mamma mia! No ragazzi! Ma ragazzi! Ma la faccia! Ragazzi ma qui ti è fatto io! Ragazzi Lula! Oddio! Oddio! Non ci andiamo mai! Buongiorno! Mamma mia! Oddio! Occhio! Ludo! Mantieni! È papàwurfo che ci guida! E' che sta guidando la loro stagione! Ma scusate, prendo a meno a finire l'acqua! Perché così farò metti tutto il cappello questo è il tetto che parla lunga qualcuno sta guidando il nostro gommone perché è andato troppo veloce l'unico che si è mangiato è papà no c'è quello con l'acqua no 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 ci hanno fatto il bagno ragazze comunque ragazzi io non mi sono bagnato c'è sotto a tuo papà no io mi sono bagnata tutti i capelli è scappato ragazzi un applauso a Ludo tanti amori Ludo Ludo è proprio Ludo 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 siamo tutti spagnati Ludo dai no facciamo un altro giro di questo no ragazzi è stata un po' un'esperienza la nostra cosa la guardate guarda io come sto cioè guarda io come sto cioè quelli siamo noi da notare la faccia di papà no no non puoi proprio niente il tuo regalino l'ho già avuto ieri andiamo no no e posi andiamo andiamo Sara vediamo come stai oh che bella vediamo l'altro vediamo l'altro vediamo con questo come stai a me piace più l'altro devo dire ah vediamo se fa male e questo cos'è? lo proviamo cosa sono? è un ventilatore è un ventilatore? vediamo fa vento? no vabbè dai andiamo gira 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 lo fa vediamo il film 3D il film 3D? è qua andiamo dai dai pronte per andare a vedere il film in 4D? sì prontissima let's go andiamo ragazzi occhialini stiamo per guardare il film in 4D e si muove la sedia Ludo vogliamo fare il gioco delle paperelle vediamo se riusciamo a prendere un regalino per Leo Lulu fai un turno io e un turno tu io so che tu vuoi quello colorato se non ci riesci vediamo cosa riesci a pescare pronte? le prendo pure così o no? devi pescare 3 papere 3 papere Ludo mi raccomando pesca bene 1 3 papere 1 3 papere l'ultima 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 edda aspetta aspetta mi sca bene ho pescato brava vediamo che numero hai fatto speriamo che 1 2 3 3 punti di piccolino 3 punti di piccolino questo qui azzurro azzurro per Leo adesso ci voglio provare io che carino mamma ho preso un regalino per Leo l'hai preso per Leo amore che carino è proprio carino andiamo a fare la fila adesso ragazzi mi prendo i ciurros i ciurros anche io li voglio ma questo no questo è per pagare cosa prendi tu? il wafer il wafer non li vuoi ciurros come lo dici? wafer allora qua lo devi fare il wafer si fa capire a pagare Ludo quale vuoi? il bianco? mi piace più il bianco ok e poi sopra? lei piace quello rame è buono no posso me lo fai dare? no è di Ludo questo non fanno cadere Ludo ma com'è al cioccolato bianco? no sì anche i miei capelli te lo si è messo sai che dopo dobbiamo di nuovo lavare i capelli questa sera? ed ecco i ciurros ecco il primo finito a terra buonissimo 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 poverino non ho fatto a poca ma buono come sono? buoni? avevo una fame dammene uno dammene uno dammene uno vediamo 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 che bello aspetti invitante mmm sicuramente ne ho nemmeno già l'hai finito tu mangia una che non c'è altro come voi cosa più buoni ciurros con i waffles votate nei commenti della community ragazze però si è fatto buio quindi io direi che è arrivato il momento di rientrare a casa andiamoci a prendere il nostro Leo che è da ieri che non lo vediamo eh eh chiudo io qui vedo un negozio tutto cioccolatoso no ma gnano dai ti prego cosa c'è qui dentro guarda qui quante caramelle ragazzi mi vengono tu da fuori raptor ci vediamo ma dove vai Auri mamma no che belle tutte queste caramelle no ma sai mamma questo me lo compri o no no questo proprio no guarda qui quante caramelle mamma guardami vieni vediamo vediamo mamma mamma voi c'è il mondo no possiamo portarci la cosa vuoi fare la ah ma questi sono i M&M possiamo portarci e queste vogliamo fare la composizione nostra di M&M no delle quelle ah Ludo queste capito quali sono buono eh no grazie sembra una pastiglia mamma dai vieni ah direi il primo colore è il primo fate la strisce capito come ah quindi allora il primo no la faccio io faccio io tutto è duro il primo colore allora vediamo chi compone la confezione di M&M più buona e bella vai ancora ok basta tocca vai il secondo è rosa il primo colore ragazzi ok vai il secondo è rosa la E che è gialla fai il giallo Ludo ok è rosa vediamo che confezione hai composto wow mettiamo un po' di blu che ne ha più sono i nostri colori Ludo provo a facciarlo dobbiamo andarli a pagare prima Ludo la mia ci bella noi dobbiamo buttare la colla Ludo guarda qui cosa c'è che belle queste confezioni mamma devo ricordare a tutti i unicornini che mangiare troppe caramelle fa male eh sì infatti si tariano i denti quindi fa male no non si può hai preso già quelli vai Ludo guidami io mi metto dietro sei pronta vai sei pronta per partire dove mi porti Ludo ci sono tre maialini uno due tre quattro cinque sei guarda questo maialino che carini questi maialini è prima dei qui è qui che qui qui Guida bene Ludo Ludo guida bene Guida bene Lulù Andiamo a finire nel muro Sei attenta Che carino Guarda che bella casetta Ludo Attenzione attenzione Gira bene Gira Mamma Ecco arriva 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 Oh l'hai bagnato tu Sta arrivando Ludo Ragazzi siete pronte per entrare nel portale Giù mangi Io cado ragazzi Cado Auri Dove siamo qui? Non lo so Questo sarebbe il labirinto di Jumanji Vediamo cosa c'è Che è successo? Non so se non ho questi rumori Ragazzi siamo in questo portale Siamo in questo lontano Vabbè andiamo a vedere Prima attimo Proviamo a entrare Ma non è che è spiegato Guarda Non siete strani sopra un muro? Cosa c'è scritto qui? Tumangi Attenzione Come attenzione? Avventuriere attenzione? A meno che non integniate Finire di far cosa? A meno che non integniate di finire cosa? Un gioco che sa trasportare Chi questo mondo vuol lasciare avventuriere? Attenzione Non cominciate a meno che non integniate di finire Oh oh In che senso? Non lo so Vabbè ragazzi è meglio che spingiamo Mamma Facciamo che è meglio Ludo vediamo se ci apre qualcuno Prova a bussare Prima facciamo così Non c'è nessuno Dove c'è un campanello? Non c'è un campanello Ci vorrebbe una chiave però Guarda Proviamo a spiare qui Guarda Ludo No Non si vede niente Eccolo la chiave Spera No scherzi Ludo Hai visto quanto è grande la casa di prezzemolo? Ludo è inutile che insisti Non ci aprono Siamo? No Troviamo la chiave Dove sono andati i papà e Auri? Sul raptor Mamma Vuoi vedere che io sono l'ale chiave Guarda Che sei qui? Ah sì Ragazzi Il chiave Questa vuol dire che so fare tutte le cose così Così? E se stare in equilibrio? Sì Vediamo Vediamo quanto resisti Neanche un secondo Guarda Aspetta Ecco Auri Ok ragazzi Il video finisce qui Ne vi salutiamo Speriamo che questo video vi sia piaciuto E? Va bene ragazzi Iscrivetevi e attivate la campanellina E lasciate tantissimi in pollicione In su Fatelo Ciao ciao E questa è pasta Addio Ragazzi Restate connessi Perché tra poco ci sarà una festa sorpresa Per Lulu Quindi attivate la campanellina E seguitici ragazzi Mi raccomando Adesso Ci vediamo Noi siamo gli unicorni Grande esercito del cuore Se stiamo insieme Tutto poi diventerà speciale Noi siamo gli unicorni Beh vieni a cantare con noi Oh 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 Non ci arrendiamo mai